scooter contro camion muore un sedicenne pesarese medici arriva l'accordo per garantire continuità di servizio la berloni riparte azienda rilevata dal taiwanese wang ente olivieri e provincia dedicano l'otto marzo alle donne afghane vl e pizza accordo vicino per la maggioranza delle quote buonasera e benvenuti al nostro telegiornale oggi è martedì 8 marzo e purtroppo apriamo questa edizione parlando del terribile incidente che è avvenuto questa mattina a pesaro in cui ha perso la vita un ragazzo di 16 anni in sella al suo scooter mentre andava a scuola morire a 16 anni mentre ci si sta recando a scuola e l'immane tragedia che questa mattina ha visto stroncata la vita di marco ragnetti classe 2006 studente del secondo anno dell'istituto agrario cecchi e giovane regista delle formiche pesaro società sportiva che oggi ha vestito la pagina facebook a lutto ricordando marco con un post di dolore cordoglio marco residente a borgo santa maria è morto sulla statale urbinate non lontano da casa si stava recando a scuola poco dopo le 8 quando per causa in via d'accertamento ha invaso la corsia opposta di marcia dove sopraggiungeva un camion che in vano ha provato a evitarlo l'impatto è da subito sembrato gravissimo i sanitari del 118 intervenuti hanno allertato l'iliambulanza ma poi constatando la situazione disperante hanno preferito catapultarsi al reparto reanimazione dell'ospedale di pesaro dove però il ragazzo è deceduto poco dopo il ricovero per la gravità delle ferite riportate alla testa e al torace sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di pesaro e di tavuglia che hanno chiuso al traffico diversi chilometri di strada per consentire le operazioni di soccorso e cambiamo argomento dopo mesi di crescente carenza di medici è stato siglato oggi regione marche un nuovo importante accordo che prevede misure straordinarie a garanzia della continuità assistenziale dopo mesi di progressiva carenza di medici la regione marche interviene sottoscrivendo un nuovo accordo sperimentale per stilare nuove misure straordinarie a garanzia della continuità assistenziale a sottoscriverle oltre l'assessore filippo salta martini il presidente regionale della federazione medici di medicina generale massimo magi il segretario regionale del sindacato snami fabrizio valeri e il direttore generale dell'asur marche nadia storti noi attraverso questo accordo sperimentale unico e primo in italia introduciamo dei principi che verranno recepiti poi nell'accordo nazionale e in sostanza si prevede che nelle postazioni dove attualmente non si riesce a reperire un medico si possa creare un meccanismo hub spoke per cui comunque il cittadino ha comunque una risposta il meccanismo sperimentale prevede poi che attraverso uno studio delle della statistica degli interventi si possa modellare comunque una centrale che risponde e smista le chiamate i bisogni dei cittadini secondo un criterio che fa perno evidentemente sulle risorse esistenti io sempre se non per non essere equivocato è chiaro che il servizio di continuità assistenziale è diverso da quello emergenziale del 118 ma voglio ricordare che comunque il servizio 118 in caso di sintomi pericolosi è sempre il numero di riferimento rimappare le esigenze i bisogni territoriali dividere quelle zone in cui c'è una maggiore richiesta di assistenza rispetto a quelle dove la richiesta è un po più bassa questo che cosa comporta comporta che in quelle zone dove la richiesta è più bassa la presenza del medico della continuità assistenziale si interrompe alle ore 24 e poi riprende con il medico di famiglia alle ore 8 in quelle zone dove invece l'assistenza è un pochino più consistente ci sono più richieste ad esempio le strutture residenziali gli hospice l'ospedale di comunità lì rimane invece un'assistenza che va dalle 20 di sera fino alle 8 del mattino abbiamo chiamato questo sistema così per dare una prima idea insomma h16 rafforzata perché appunto non è uno sguarnire il territorio ma è riqualificare la presenza del medico nel territorio perché poi molte delle attività si trasferiranno anche nell'aumento di prestazioni negli studi medici nei distretti per la diagnostica di primo livello questo è una sperimentazione quindi un primo passo che va nel senso anche di cominciare ad applicare capire quali saranno le nuove regole con il pnrr e quindi con la presenza di una centrale operativa che gestisce sul territorio le risposte ai bisogni dei dei cittadini c'è da tener conto lo voglio sottolineare che questo accordo anche sperimentale migliora i trattamenti del personale che viene impiegato soprattutto in orari notturni attualmente la prestazione per il rimunerata con 23 euro l'ora con questi accorgimenti si può arrivare anche a 40 euro l'ora ma quando i medici riescono a sostituire altre postazioni non coperte quindi diciamo che c'è un beneficio per quanto riguarda l'impiego di risorse pubbliche e c'è un beneficio anche per gli stessi operatori sanitari per gli stessi medici importante svolta per una delle industrie più importanti della storia del mobile e delle cucine del territorio la berloni dopo la messa in liquidazione del 2019 ha ora un nuovo proprietario è il taiwanese alex wang pronto a rilanciarla vediamo il servizio nuovo futuro per la berloni il colosso industriale di cucina è finito in liquidazione alla fine del 2019 e con i capannoni di chiusa di ginestreto venduti l'anno successivo alla tecnoplast viene ora rilevato da alex wang ovvero dall'imprenditore di taiwan che era già socio di berloni nella cordata orientale che ne tentò il rilancio nel 2014 all'asta indetta dal tribunale di pesaro per l'assegnazione della società in concordato da novembre scorso è risultata aggiudicataria la treasure win di proprietà proprio di alex wang che ha fermamente voluto l'acquisizione di quello che per decenni è stata una bandiera della pesaro del mobile wang è l'amministratore delegato della multinazionale thermos company che rappresenta il più grande produttore al mondo di thermos e contenitori isolanti per alimenti e bevande con sede in illinois negli stati uniti si tratterebbe di un'operazione di acquisizione del marchio e della società chiusa per un valore di 2 milioni e 50 mila euro dopo l'annuncio del concordato a cui ha fatto seguito l'asta dopo la cessione dei capannoni di chiusa di ginestreto i precedenti stati d'agitazione sindacale degli 85 dipendenti e la nomina del liquidatore alessandro meloncelli attualmente la berloni ha i suoi macchinari in un capannone nella zona industriale di talacchio wang avrebbe già approfondito i controlli su magazzino e macchinari per pianificare un riavvio della produzione con quali tempi difficile dirlo con certezza perché prima si dovrà procedere alla ricapitalizzazione oltre al fatto che il giudice dovrà sottoporre ai creditori l'offerta per procedere all'omologazione del concordato trapela per ottimismo per ripartire entro l'estate hanno tra i 10 e 12 anni e sono stati individuati dalla polizia locale di cartoceto come i responsabili dei pesanti danneggiamenti che lo scorso 2 gennaio hanno subito tre autobus destinati al trasporto pubblico locale uno scuolabus e due automobili danni che ammontano a decine di migliaia di euro al momento non sembra esserci correlazione con i circa 30 casi di auto recentemente irrigate nel territorio comunale sulle quali sono in corso approfondimenti e verifiche a pedinato e molestato la ex compagna per quasi due anni ed è scattato il divieto di avvicinamento è il provvedimento adottato oggi dalla questura di pesaro dopo che le indagini della squadra mobile avevano individuato il comportamento di stalking da parte di un pesarese colpevole di molestie reiterate nonostante un precedente provvedimento di ammonimento ora violare il divieto di avvicinamento comporterebbe quindi la reclusione in carcere le foto che vi mostriamo ora si riferiscono ai lavori di asfaltatura sulla strada mombaroccese in prossimità di saltara si tratta di uno dei tanti lavori di migliorie a strade ammalorate del territorio per le quali la provincia di pesaro urbino ha investito 700 mila euro lavori che sono stati anticipati sulla tabella di marcia per l'arrivo della tappa di ciclismo a pecchio carpegna della tirreno adriatico di sabato 12 marzo già asfaltati anche diversi tratti sulla strada san gregorio fra acqua lagna con fermignano sulla flaminia nel comune di coli al metauro e in località sterpeti nel comune di monte felcino e dalle strade passiamo ora i parcheggi in particolare quello di porta cappuccina a pochi metri dalla stazione di pesaro per il quale vi avevamo annunciato nei giorni scorsi un'imminente chiusura in seguito al venir meno dell'impegno d'acquisto del comune dell'area privata in questione dopo la scadenza dei termini del comodato d'uso oggi si è passati dalle parole ai fatti con l'area che è stata delimitata da new jersey per chiudere l'accesso alla sosta è stata lasciata una piccola apertura per far defluire le ultime macchine parcheggiate prima di recintare completamente l'area in questione il comune nei giorni scorsi è corso ai ripari aprendo una nuova area di sosta attigua a quella attuale ma resta comunque aperto il contenzioso fra l'amministrazione e la società torniamo a parlare della solidarietà dei cittadini pesaresi in favore del popolo ucraino nel prossimo servizio il nostro edoardo razzi ci porta a conoscere il primo bilancio stilato dall'assessore belloni e a vedere come è andato il secondo martedì di donazioni al mercato settimanale del san decenzio ad una settimana dall'attivazione del servizio sos pesaro per l'ucraina attivato dal comune della protezione civile l'assessore all'operatività belloni è intervenuto sul proprio profilo facebook per fare un primo report sul loro intervento questi cinque giorni di attività sono arrivate fino a ieri 256 telefonate ai nostri centralini 33 richieste di aiuto 124 mail che hanno avuto tutte quante una risposta 42 offerte di alloggi e 119 consegni di materiale solo ieri 632 kg quindi grande lavoro svolto dai volontari e soprattutto grande disponibilità da parte grande generosità da parte dei cittadini pesaresi nel frattempo continuano senza sosta le iniziative di raccolta di indumenti e beni alimentari per il popolo ucraino e dopo le immagini che vi abbiamo mostrato ieri di come la protezione civile si sia mobilitata oggi a distanza di sette giorni siamo tornati al parcheggio del san decenzio come martedì scorso infatti abbiamo trovato davanti al bar il ciclone il coordinatore degli ambulanti del mercato raccogliere vestiari e approvvigionamenti siamo veramente soddisfattissimi del popolo e della popolazione di Pesaro degli stessi ambulanti che ci donano tante cose addirittura nuove e siamo colpiti soprattutto dalla popolazione che veramente ha un cuore così grande donazioni che non andranno solamente agli ucraini che arriveranno a Pesaro ma anche a tutti quelli che arriveranno in Italia ecco soprattutto adesso in Italia che stanno arrivando quasi 5.000 ucraini al giorno e sarà diciamo così il nostro compito dare questa merce a loro e poi è della merce che andrà anche ai confini io avevo un giubbotto ancora bello pesante che non usavo più tanto e quindi l'ho donato insieme a dei maglioni, delle camicie, una sciarpa, insomma un po' di cose spero che possa servire a qualcosa, piccolo contributo e quindi se tutti magari lo fanno penso che sia una buona cosa ho portato degli indumenti caldi per queste popolazioni che stanno passando un periodo molto disastroso diciamo e quindi sperando che le possa essere d'aiuto una vicinanza nei loro confronti? una vicinanza sì nei loro confronti che indumenti ha portato? ho portato dei maglioni, delle giacche pesanti, delle sciarpe aspettiamo tantissima gente anche martedì prossimo per la raccolta di indumenti e beni di prima necessità anche come scatolame alimentare e roba di lunga conservazione dalle 8 alle 13 noi siamo qua e vi aspettiamo come solito davanti al bar Il Ciclone e qui al mercato di Pesaro e oggi è l'8 marzo la giornata internazionale della donna biblioteca e musei oliveriani con la provincia di Pesaro Urbino hanno deciso di dedicare questa ricorrenza organizzando ieri sera un convegno che ha analizzato la critica a condizione femminile delle donne afghane vediamo quindi il servizio che ha realizzato la nostra Roberta Isperide che anticipa anche lo speciale di approfondimento che potrete vedere proprio su Rossini TV venerdì alle 21.20 Il convegno dal titolo Le donne dell'Afghanistan tra la difesa dei diritti e perle di libertà questo convegno ovviamente dal titolo sostiene comunque la storia delle donne in Afghanistan che ancora oggi si battono per difendere i propri diritti i diritti fondamentali per la tutela della persona Perle ha a che fare con un'iniziativa di 15 anni fa quando arrivarono a Pesaro dall'Afghanistan due sorelle due giovani afghane molto motivate e bravissime che volevano diventare registe di cinema avevano una possibilità che trovarono nella missione italiana nella città di Erat dove appunto ebbero assistenza indicazioni utili e una possibilità di raggiungere l'Italia Arrivati in Italia vennero a Pesaro e qui a loro volta incontrarono una grandissima ospitalità una bella accoglienza da parte dei cittadini che venendo a sapere di questo loro sogno di diventare registe si prodigarono anche come amministrazioni quindi anche come istituzioni locali quindi la provincia di Pesaro Urbino la regione Marche si prodigarono per trovare le risorse che consentissero a queste due ragazze di andare negli Stati Uniti è una storia lieto fine perché effettivamente raggiunti gli Stati Uniti le due sorelle trovarono una possibilità di frequentare una scuola di regia e dare vita a tutta una serie di attività professionali in campo cinematografico che le hanno portate oggi a firmare il loro primo film è stato un evento significativo e importante per la nostra provincia come doveva essercene un altro che era l'orchestra femminile dell'Afghanistan Zora invitata qui dall'orchestra Olimpia che è sempre un'orchestra tutta al femminile e che aspettevamo con ansia per ascoltare i loro concerti però dopo quello che è successo in Afghanistan di queste ragazze si sa ben poco cosa stiano facendo o cosa non stiano facendo di sicuro hanno annullato tutte le tornee che avevano in Europa e questo ancora più va a determinare quella che è la situazione delle donne in Afghanistan che è una situazione veramente di grosso pericolo per le donne vogliamo rappresentare un segno di solidarietà verso donne che vivono in una società nella quale per motivi politici è tornata ad affermarsi una visione tradizionalista che da sempre limita i diritti delle donne e non permette loro di andare a scuola liberamente oltre un certo livello primario di frequentare il liceo e l'università di seguire la loro vocazione nelle professioni e tutto questo non è accettabile bisogna cercare a nostro parere sempre con modalità comunque non violente e di consenso ma cercare di offrire un'alternativa a queste persone e come sapete oggi parte questo passaggio al nuovo digitale terrestre per tutte le tv nazionali ma questo passaggio appunto al nuovo digitale terrestre toccherà anche le tv locali e quindi toccherà anche Rossini TV e allora vi anticipiamo già che a partire dal 15 marzo Rossini TV non sarà più sul canale 633 ma cambieremo anche noi canale sarà un canale di due cifre che vi comunicheremo appunto i prossimi giorni quindi state collegati sempre alla nostra emittente e a breve vi daremo informazioni ulteriori su quello che sarà il canale ufficiale di Rossini TV ed ora andiamo con le altre notizie parliamo di sport perché il presidente dell'Ital Service Lorenzo Pizza sarebbe pronto a rilevare la maggioranza delle quote della VL e questa è l'anticipazione del resto del Carlino che vi abbiamo letto questa mattina nella rassegna stampa e che pare ad un passo da concretizzarsi allora vediamo il servizio l'anticipazione del resto del Carlino è forte e suffragata da buoni argomenti Lorenzo Pizza sarebbe pronto a diventare il nuovo socio di maggioranza del consorzio Pesaro Basket proprio lui il presidente dell'azienda Ital Service e dell'omonima squadra di Calcio 5 dallo stesso trascinata dalla Serie A2 a due scudetti e ai più prestigiosi palcoscenici internazionali è pronto a diventare il maggior detentore delle quote del basket pesarese insomma una sorta di coproprietario della società assieme allo stesso consorzio sarebbe un'altra novità con la N maiuscola in un momento di trasversale rinnovamento a pochi giorni dal passaggio di testimone della presidenza del consorzio da Luciano Amadori a Franco Arceci Lorenzo Pizza di quei consorzi aveva già fatto parte così come del CDA per poi uscirne ora sembra sul punto di rientrare ma con un ruolo di primatore la nuova presidenza Arceci e il mantenimento di Amadori in squadra paiono due tasselli graditi per pensare ad una cessione di quote sulla quale non ci sono conferme ufficiali da parte dell'AVL ma serpeggiano già voci circa un accordo di massima che ricongiungerebbe Pizza con la passione giovanile per il basket in un progetto in linea alle sue ambizioni e chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con un'altra notizia di sport che riguarda la Vis Pesaro una Vis che continua a guardare al futuro ufficializzando un altro rinnovo di contratto quello del centrocampista Mario Coppola che si lega la Vis fino al 2024 con opzione di prolungamento anche alla stagione 2024-2025 Siamo arrivati alla fine del nostro telegiornale questa sera però restate collegati su Rossini TV perché alle 21.20 andrà in onda l'ultima puntata di questo bellissimo documentario dedicato alla Seconda Guerra Mondiale ideato da Gastone Mazzanti quindi non perdetevi questa ultima puntata che potrete vedere anche in replica giovedì, sabato e domenica e poi vi ricordiamo il consueto appuntamento con la nostra rassegna stampa del mattino dal lunedì al sabato tutte le mattine ci trovate in diretta TV alle 7.20 ma anche in diretta Facebook e poi vedete le repliche questi sono gli orari in cui potrete vedere la rassegna stampa in replica e vi ricordiamo anche che domenica le nostre telecamere saranno in diretta dalla parrocchia San Giovanni Bosco ad Osteria Nuova per trasmettere la Santa Messa alle ore 11 in diretta TV e Facebook e vi ricordiamo come sempre di utilizzare il nostro numero Whatsapp per le segnalazioni 370-366-7210 è il numero utile per inviarci foto, video messaggi di testo e segnalarci le cose che non vanno noi chiaramente daremo voce alle vostre segnalazioni ho detto davvero tutto adesso per voi c'è il meteo noi ci ritroviamo domani mattina con la rassegna stampa grazie a tutti